Buonasera, faccio un resoconto veloce di quello che è stato detto prima nella diretta perché purtroppo ci sono problemi di connessione quindi adesso registro questo video e poi lo carico perché sennò li ho di nuovi problemi di connessione di questo mi dispiace però è così poi di essere tremendo Allora, niente, abbiamo parlato sulla pagina di Carpos del fatto che le linee guida per quanto attiene la figura del medico non sono mai vincolanti quindi non ci possono essere linee guida che impongono qualcosa ad un medico questo per giurisprudenza costante, soprattutto la giurisprudenza e la cassazione penale e in riferimento alla vicenda di oggi dell'AIFA, cioè la vittoria di oggi di quei medici di base che hanno fatto ricorso al TAR e quindi al Consiglio di Stato contro la decisione dell'AIFA di togliere l'idrossiclorochina il Consiglio di Stato ha sospeso questo divieto, quindi ha annullato in via cautelativa l'efficacia del divieto di AIFA e ha sostenuto che è il singolo medico che decide se somministrare oppure no l'idrossiclorochina la l'idrossiclorochina è un antimalarico usato spesso anche in ambito reumatologico che per alcuni ha un effetto benefico su chi sviluppa la malattia da Covid in altri studi invece la pensano in modo diverso e il Consiglio di Stato ha detto che proprio in virtù di questo dibattito scientifico non si può decidere di vietare la somministrazione o la prescrizione di idrossiclorochina ma appunto è il medico che decide informando il paziente che firma il consenso informato a questa decisione dell'AIFA è un'altra forzatura perché l'AIFA sulla base di che cosa decide di schierarsi di qua o di là sono tutte misure di vieti che fanno capire quanto si è perso il senso della misura perché lasciando perdere il dibattito sull'idrossiclorochina tutti i farmaci hanno evidentemente degli effetti positivi e negativi si è parlato a lungo dell'allungamento del QT nell'elettrocardiogramma ma non posso scendere in questi dettagli perché sono troppo tecnici però che sia necessario ricorrere al Tare poi al Consiglio di Stato per sospendere un divieto posto con un ips ed ipsit anche qui senza che ci siano dati scientifici che a sostegno mi fa veramente pensare male perché non si è mai visto che almeno non si è mai visto in questi decenni insomma dal secondo dopoguerra che arriva qualcuno decide qualcosa e quella cosa la si fa non funziona così per cui bene complimenti ai medici che hanno fatto ricorso e bisogna tenere duro quindi bisogna tenere duro e ogni volta fargliela sudare e soprattutto ogni volta batterli batterli sulla via giudiziaria e fare in modo che la medicina si riappropri della dimensione che le spetta cioè diamo un senso veramente al nostro essere medici al giuramento di Ippocrate ma non come frase fatta cioè dobbiamo dargliela darcelo un senso a quello che siamo e ritrovare la nostra identità è vero che hanno cercato già di farci estinguere prima di sto benedetto Covid usiamo il Covid per riaffermare chi siamo chi siamo perché siamo diventati medici senza intimidazioni ognuno con la propria specialità ognuno con la propria forza perché tanto alla fine se si è uniti in questa battaglia di civiltà la vinceremo noi è semplicemente se iniziamo ad avere paura che perderemo per cui raga date una mano anche a me ci sono io adesso qua però cominciate anche voi perché adesso sono io e magari uno di voi però magari domani saremo dieci poi saremo cento poi saremo mille e poi saremo tutti a dire che cos'è la medicina e la medicina non è quello che stiamo vedendo adesso e lo sappiamo tutti che non è questo buonanotte buonanotte Grazie.